Torre del Greco si prepara al ballottaggio, che ne pensa dei due candidati Ciro Borriello e Luigi Mennella? Diciamo che Ciro Borriello è il passato, penso che Mennella sia il futuro, è uno che garantisce sicurezza, affidabilità, onestà. Le sue richieste al futuro sindaco? La pulizia della città, i servizi, la viabilità, l'immondizia, il ripristino del porto turistico, la cittadella, la litorania e quando più ne ha più ne metto. Io penso solo che chi viene a governare questa città a meno risolva i problemi principali, il lavoro per i giovani, ce n'è tanto di lavoro per il prossimo sindaco, speriamo che si impegni a fare a meno quelle più importanti. E volendo fare un pronostico, secondo lei chi vincerà? Io sono sicurissimo che Mennella sia in vantaggio su Borriello. Bisogna capire gli elettori di Calderola dove si spostano, perché è quello che potrebbe fare l'ago della bilancia. L'8% di Calderola se si spostano verso Borriello o verso Mennella, ma io sono più propenso che spostano verso Mennella per votare il nuovo. Lei che ne pensa dei due candidati Ciro Borriello e Luigi Mennella? La stessa cosa. In che senso? Ti sa che è tutto stesso. Cioè non cambierà mai niente? Mai. Io non disdegnerei nell'uno e nell'altro, penso una sola cosa, perché sono una persona abbastanza realistica, coscienziosa, ricca di consapevolezza. Quindi inviterei queste due persone a guardarsi dentro, a fare un esame della propria coscienza, perché lì si va realmente a vedere la cosa, perché devono guidare, voglio dire, noi torresi. E le sue richieste da cittadina al futuro sindaco, chiunque sarà? Quelle di guardare realmente le esigenze del torrese. Siamo una cittadina abbastanza fiorente, bella, abbiamo un bel po' di opere artistiche, però c'è il fatto di questa negligenza proprio umana. Chiederei innanzitutto, cioè voglio dire, un biglietto da visita proprio, qual è la pulizia. La pulizia, non disdegno neanche il fatto di responsabilizzare anche noi, perché anche noi torresi sicuramente abbiamo questa responsabilità di essere persone ingivili. Siamo degli ingivili, è un dato di fatto, però magari avendo una città pulita possiamo avere anche turismo e lavoro per i giovani. Il torrese non deve essere messo da parte, deve partecipare con la politica, con la politica, i carabinieri, la finanza, i vigili urbani, fare questi incontri che sarebbero veramente forse una risoluzione al problema di Torre. Diamogli una chance, dai, al sindaco Mennella, poi non lo so. Quali sono le sue richieste da cittadina al futuro sindaco? Ma che si bati tanto a questa città che è così bella e che è un momento che ci vuole l'aiuto da loro per poterla sollevare. Perché veramente è una bella cittadina. Facendo un pronostico, lei chi pensa vincerà? Non lo so, guardi, non lo so, vinca il migliore. Lei che ne pensa dei due candidati, Ciro Borriello e Luigi Mennella? Due persone molto in gamba, vinca il migliore. La cittadina, le sue richieste al futuro sindaco? La cittadina richiede soprattutto per quanto riguarda la spazzatura. Io penso, spero che il nuovo sindaco possa agire per avere una città più pulita. Questo io chiedo. Io personalmente penso che sia un po' la voce dei torresi. Grazie. Grazie a tutti.